Francesco è un turbine nella storia della Chiesa, della cristianità, dell'umanità, dell'Occidente. In effetti addirittura potremmo dire non solo dell'Occidente se pensiamo al rapporto assolutamente rivoluzionario che intrattiene con il sultano nel corso della crociata. Di sicuro è una figura che interroga potentemente il proprio tempo ma anche i secoli a venire. La canonizzazione decisa da Papa Gregorio, in effetti ad appena due anni dalla morte di Francesco, sostanzialmente cristallizza una autentica leggenda. La leggenda in fondo, e ce lo ricorda anche Massimo Cacciari per esempio nel suo doppio ritratto, è definita per immagini attraverso il racconto che di Francesco compone Giotto negli affreschi di Assisi. Quindi nel racconto di Giotto, che è mediato da San Bonaventura, quindi c'è un pensiero, non è semplicemente un esercizio artistico, ma è per l'appunto l'introduzione di Francesco nella storia attraverso la sua propria storia. Dicevo che i dipinti, i quadri, potremmo definirli così, di questa sorta di galleria messa assieme da Giotto nel nome di Francesco, definiscono gli episodi più celebri, quelli sui quali si fonda, lo possiamo davvero definire così, un mito. E che il mito abbia una capacità attrattiva assolutamente straordinaria e che il carisma dell'uomo attraversi tutto l'Occidente e arrivi in Portogallo, in un arco temporale brevissimo, ce lo testimonia per esempio uno dei suoi seguaci più fedeli e più importanti, ossia Fernando, perché questo era il nome di Antonio da Lisbona. Fernando nasce a Lisbona, veste il colore bianco degli agostiniani, lascia gli agostiniani perché è attratto dalla radicalità e dalla potenza del messaggio e della testimonianza e dell'imitazione di Cristo che Francesco propone. E durante il viaggio verso la terra d'Africa che voleva andare a evangelizzare, compie un naufragio e poi nel corso di questa peregrinazione per mare poi arriva sulle coste siciliane, risale Antonio tutta l'Italia finché arriva nel 1221 ad Assisi. Lì avviene un incontro con i vertici dell'epoca, insomma, dei francescani e Antonio poi prosegue verso Padova e verso il nord Italia e realizza a sua volta un capitolo essenziale del francescanesimo. Perché propongo questa lettura parallela? Non soltanto perché Francesco e Antonio sono canonizzati entrambi a pochi anni, entrambi circa due anni dalle rispettive morti e dallo stesso Papa, e cioè da Gregorio IX, ma anche perché pure per Antonio il racconto della sua vita, anch'esso tramite un ciclo di affreschi assolutamente straordinario interno alla Basilica di Sant'Antonio e poi nella scoletta del Santo per mano di Tiziano, anche la storia di Antonio è una storia esemplare alla sequela di Francesco e nel segno del rinnovamento.